CERTO CHE NEL MONDO MODERNO Le macchine inglesi senza una logica I film francesi senza una logica I programmi di cucina O la clerici La clerici ci ha messo tre anni per imparare a scocciare l'ova E ora le insegna a far da mangiare alla gente in televisione O le borse filmate Le costano come una vespa ma non ci puoi salire sopra per andare da qualche parte O il brodo Da sempre ci vogliono far credere che sia roba da mangiare Il brodo si beve E' una bevanda Smettetela di portarcelo come prima O la frutta La mettono dappertutto la frutta Ma perché? La gente fa i dolci con la panna E poi ci mette la frutta per pulirsi la coscienza Perché dobbiamo rovinare sempre tutto? Fratosfera invece non è il diavolo Via! Due anni Ci ha messo meno fratosfera a diventare fratosfera Che la clerici a imparare a scocciare l'ova Che i dolci con la panna Che la clerici a imparare a scocciare l'ova Che la clerici a un compagno Che i dolci con la panna Che i dolci con la panna Chassone